A me questi cinesi mica mi stanno bene Ehi tu, hai bisogno di una doppia razione di sculacciate Pleggo! Ma quello chi è? Buongiorno! Come va? Bella giornata, eh? Scusi, signore, sai indicarmi la strada per la Martigna? Deve essere forestiero. Do you speak English? No. Sprechese Deutsch? Habla usted Spagnolo? Ma che dici, c'è il carugno? Oh, ma che? Deve essere solo Epiletti. O un matto, eppure disarmato. Senta, buon uomo, facciamo un bel taglio. Potrei anche perdere la pazienza. Se fa un altro strillo, con una sberla le faccio ingoiare la maschera. Ha fatto lo strillo? No, direi proprio di no. Una pernacchia. Questa volta era uno strillo. No. Questa volta era uno strillo Porca loca Vai fresconi, andate ancora in giro con le spade